Ritorno al passato! Se Aylita è sotto il controllo di Xana, non si dovrebbe mai fare! Ole! Cerca almeno di programmare una sciavola! Ce l'ho quasi fatta, Ulrike! Ehm, pensi di essere... Un folletto della cornovaglia appena catturato! Non preoccupi... Ah, beh... Sembra che... Me ne occuperò... Quando è lucido... Petrifico... Puoi farlo le... Vingard... Porta il folletto... E' semplice... Il professore... Bene! Petrificus totalus! Vingardium leviosa! Bravo, R! Molto be... Plan... Un combo... Per schifo... Gli... Potosizione... Perchetto... Perchetto... Cap... E' semplice... Petrificus Totalus! Wingardium Leviosa! Petrificus Totalus! Wingardium Leviosa! 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 Molto bene! Ovviamente avrei potuto scompare. Non è magnifico? Ciao! Per fu... Una festa di comp... È la prima volta. Mi dà l'idea di essere una festa di... La lotta per conquistare la Coppa delle Case continua. Corvo Nero Asso Rosso Serpe Verde Grifondoro Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. La competizione tra le case diventa sempre più accesa. Questa! Ho? Questa è la mia vita? Questa è la mia vita? Che vuoi? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti